Se ti dico un cielo aperto, un cielo che appartiene alla tua vita, alla tua storia, è il primo che ti viene in mente che è importante? Un cielo aperto come un cielo sereno? Sì, sereno, largo, che ha colpito. Beh, a parte oggi insomma che mi sembra che non è fatto male. E va... Ma lo butto sul privato e dico gli occhi di mia moglie, guardando gli occhi di mia moglie lì si apre un cielo, uno sfondamento. Che non si ferma più e che arriva alla commozione, ecco. Senti, in questo film di Paolo Sorrentino che è stato presentato a Cannes, a Partenope, di cui parleremo ovviamente più in altri tempi, però quello che mi ha colpito è che il tuo personaggio è quello del mentore, no? Il punto fermo nella vita di questa persona. E quindi io voglio capire se tu avevi avuto in una età della tua vita un mentore, cioè un maestro, una persona a cui sei tornato e che ti ha dato un po' il tempo e la saggezza. La mia generazione sbagliando ha rifiutato i maestri. Insomma, cercavamo di riunirci tra di noi e capire come affrontare e superare le cose. Però poi a un certo punto hai bisogno, capisci che ti sono mancati i maestri. Insomma, non so, il mio maestro, uno dei miei maestri principali è stato mio cognato, Paolino si chiamava, è morto da pochissimo, poverino. Ed era quello che ha portato un po' la politica in famiglia, ha portato l'inonia in famiglia, ha portato un umorismo anche un po' sarcastico a cui mi sono ispirato molto nella mia vita. E poi, insomma, ovviamente l'incontro con Nanni è stato più che per le cose che ho imparato da Nanni, ma perché era proprio un atteggiamento nei confronti della vita, delle cose, del mondo, che sentivo rigoroso e nello stesso tempo necessario. Tu hai studiato sociologia. Perché l'hai scelta e che cos'è per te? Beh, io credo di essere uno abbastanza conformista. Scelsi sociologia perché era un po' la facoltà del momento, insomma. Ed era la facoltà in cui c'era una chiave di interpretazione anche del mondo, districava la matassa del mondo, no? I rapporti sociali e tutto. Poi purtroppo la maggioranza di quelli che studiavano insieme a me sono diventati tagliatori di test nelle migliori fabbriche e aziende italiane, insomma, per dire come poi nella vita ci possono stare tante cose. Però credo che mi abbia dato uno degli strumenti analitici che mi sono serviti. Quello che colpisce nel film di Paolo è questo anche ripercorrere la storia di Napoli, che è una storia che è anche la tua, dal terremoto a poi le contestazioni universitarie, allo scudetto. Insomma, quali sono stati i momenti che tu ricordi, anche rivedendo questo film, ma proprio di rapporto vero forte con la tua città? Io me li ricordo tutti. E devo dire, a parte i primi anni 70, la metà degli anni 70, con l'affermazione delle prime giunte di sinistra, in cui la città improvvisamente incominciava a vivere di cultura, di musica, di concerti, dovunque, andavi, c'erano incerti tutte le sere, così come in tutta Italia. Ed è stato un momento bellissimo. Poi, purtroppo, come elemento positivo, poi l'elemento negativo è proprio stato il terremoto, effettivamente è stato un momento in cui la città, mentre il mondo è cominciato a correre, la città è diventata di metallo, è diventata ingabbiata in questi tubi di cieli innocenti, che hanno fermato tutto, hanno paralizzato tutto. Improvvisamente la città è rimasta ferma, non solo ferma, perché poi il problema non è stato in sé il terremoto, anche ovviamente per i morti, però è il dopo terremoto che è stata la roba, che ha distrutto completamente il tessuto, un po' di tessuto positivo che c'era nella città, ha fatto sì che la camorra entrasse nella politica, che ha cambiato proprio il volto della storia della città. Del terremoto è proprio un ricordo, diciamo, personale? Te lo ricordi? Sì, io non mi sono accorto, non lo so credo di essere stato l'unico a Napoli che non mi si è accorto perché stavo in una piazza, a Napoli, la piazza Medaglie d'Oro, e a un certo punto abbiamo visto delle persone, tanta gente che usciva da un bar, siccome era un bar dove venivano sempre scontri politici, ho pensato che ci fosse stato qualche attentato, quindi ho cominciato a correre in direzione opposta al bar, è stato un momento di caos totale, poi mi sono reso conto che era il terremoto, perché insomma i lampioni ondeggiavano, è stato buffo, però ti ripeto, poi il terremoto ha avuto quella scosta là enorme, ma poi c'è stato un anno e mezzo di repliche tutti i giorni, era una roba di uno stress impressionante. Senti, sei stato uno studente che scendeva in piazza a contestare? Sì, sempre, tutte le volte che c'era da scendere, la città, i cortei, sì sì, era abbastanza attivo. Hai preso qualche mangalenata? La polizia no, però è stato qualche anguato fascista l'ho avuto. No, racconta. No, va bene, è successo non tante volte, un paio di volte, insomma, ma è niente, era semplice, ti circondavano i dodici, e lì partiva una specie di cosa, devi essere bravo a scappare, io sono scappato subito, ovviamente non avevo nessuna intenzione di affermare un principio in quel momento, per cui mi sono dato. Senti, e oggi ti viene voglia di scendere in piazza? Cosa pensi quando guardi i ragazzi che scendono in piazza oggi? E un po' di mangalenata anche a loro? Che ti devo dire? Credo che è l'unica possibilità di salvezza quella, perché sennò tutto si svolge in una sfera privata. L'essere umano quando sta da solo, non so perché, per quale motivo, poi diventa autodistruttivo. però se i ragazzi se non trovano una via di condividere delle cose, la politica è un mezzo per fare questo, senza quella via lì, cominciano a farsi del male. Senti, e un altro momento del film è quello dello scudetto. Ecco, tu eri a Napoli, hai festeggiamenti, sei andato? Allora, io ho perso il primo, ho perso il secondo, perché ero andato in cerca di fortuna a Milano, quindi sia il primo che lo secondo l'ho perso. Il terzo l'ho vissuto un po' di più, però proprio il giorno che Napoli ha vinto lo scudetto, ero naturalmente a Ventotene, a girare il film con Paolo Grisiglie, quello lì, dopo è un altro Ferragosto, e quindi abbiamo festeggiato un po' lì nella piazzetta di Ventotene. Però poi dopo ho fatto, ho cercato un risarcimento, sono andato allo stadio, ho fatto il giorno finale, lì della sediazione, un po' di lo show finale, questa volta un po' l'ho vissuto. Invece quelli da Milano, come erano questi festeggiamenti così a distanza, no? Quali erano i sentimenti? Strazianti, quelli napoletani che c'erano lì, si sono riuniti un po' a piazza del Duomo, hanno fatto due giri alla galleria, avanti e indietro, e poi sono tornati a casa. Poca roba. Senti, invece appunto, qual è secondo te un altro snodo nodale nella storia di Napoli? Che c'è nel film o che non c'è? Ma la storia di Napoli è fatta di tante docce fredde e tanti momenti che sembra che... certo è un trenino, un treno, è stata la svolta della città, cioè l'alta velocità, cioè, bastava poco, quanti in realtà tutto mi ha avuto, mettere un paio di binari un po' più funzionanti, si arriva a venire un quarto a Napoli, e da lì tutti questi selvaggi che fanno dei scippi, questa gioventù anche pericolosa, hanno trovato posto nelle duemila pizzerie che si sono aperte e quindi hanno cambiato il volto della città. In bene e spero non in male, nel senso che poi il turismo non è a costo zero, ovviamente, è un prezzo da pagare e spero che dove non è riuscito il terremoto, dove non sono riusciti i nazisti, dove non sono riusciti il colera, non ci riesca il turismo a cambiare proprio l'anima della città, a rubare l'anima della città, il turismo cerca la bellezza e poi la distrugge. Senti, il tuo rapporto oggi personale con Napoli e del colera cosa ti hanno raccontato? Io c'ero in colera, non l'ho preso, ma c'ero. e pure lì un'altra... Ricordiamoci che il colera ha fatto 30 morti, alla fine non è stata questa cosa, se ne parla anche perché è stato utilizzato parecchio per denigrare un po' noi napoletani, soprattutto alcisticamente parlando, però ha fatto 30 morti e la cosa più che mi ricordo, era un ragazzino, un adolescente, al pallasport, gli americani che ci facevano delle siringhe con delle specie di siringone elettriche. mezzo milioni di persone, tutti che infila. Il tuo sentimento adesso oggi per Napoli e si è cambiato dopo aver fatto questo film con Paolo? Che ti ha aperto anche delle porte, le sue personali? Napoli è una cosa... per me è una cosa da cui fuggo, a cui devo tutto, perché poi tutto quello che sono in qualche modo viene da lì, però è una cosa da cui fuggo anche perché spesso anche è il luogo dove si perde, si disperde il proprio talento. Quindi, insomma, non lo si può vivere a mezzo servizio, il weekend non ce la faccio a fare qualcosa lì. Forse l'ultima parte della mia vita, forse, chissà, farò ritentare dalle mie radici, perché poi le radici sono importanti. Per una Napoli a tempo pieno, quindi? E qui lo sanno può dar, sì, sì.